Penso che il problema più grande sia la scrittura, le sceneggiature, pochi sceneggiatori, poche idee, pochi soggetti. Quindi un festival così, soprattutto per ragazzi che cominciano a mandare soggetti, a parte i corti da far vedere, ma soggetti e sceneggiature da opzionare, potrebbero essere un po' un'idea. Il corto trovo sia uno strumento meraviglioso per far vedere se c'è un'idea e se sappiamo raccontare un'idea. Oggi più di prima, nel senso prima c'era una barriera enorme, perché comunque io quando ho cominciato c'era la pellicola, non c'era il digitale. Quindi comunque dovevi convincere qualcuno a produrti il tuo corto. Per quanto costasse poco, per quanto girassi poco, comunque c'era un investimento da fare di qualche milione. Sì, 10 milioni, c'erano le lire, insomma non era facile, non è che ti svegliavi e riuscivi. Quindi oggi la possibilità, la digitalizzazione libera assolutamente le idee. Chiunque veramente si sveglia la mattina e con un cellulare e un pc può girare la sua storia. Con una telecamera e un piccolo centro di montaggio, se si vuol fare un piccolo upgrade, ma oggi è veramente facile girare un corto a costo zero. Chiaramente è basico, magari non avrà chissà quale fotografia e chissà quale virtuosismi tecnici. Ma quello che dico non è importante. L'importante è far vedere se si ha una buona storia in testa e se ha la capacità di raccontarla. Poi la fattura, i tecnicismi e gli abbellimenti, tra virgolette, vengono dopo. Io quando faccio le masterclass ai ragazzi consiglio, girate, non vi preoccupate della tecnica. Non aspettate magari un anno per fare il corto con la troupe, con la fotografia, con i dolli e i carrelli. Chi se ne importa? L'importante è raccontare.